Stage 30 è super mega difficile, come dice la gente, scopriamo, no? Super mega difficile tutte le cose, vediamo un pochino, stage 30 delle Zadirose La banda... sono un casino, Zallone, basta che vai su Google Play Store, no? Vai su Dokkan, tipo, e c'è altri da questo sviluppatore lì, così E poi vai su Q-Up è la stessa cosa, e ti vedi tutti quelli giapponesi Vai a ridere un pochino, vai a ridere un pochino Ok, stage numero 30, vediamo un po' Vediamo un po' Sì, Aragorn Non so quanto possa diventare un video questo, però, vabbè Vediamo esattamente La madonna La madonna Sì Sì Meglio Trunks per ora Rip per le orbe, più che altro No, non gli do la special per ora Just Chris 41, grazie mille E c'era Goku God, grazie mille per il follow A tutti e due Vediamo un po', vediamo un po' se non si esplode Ok, tankare lui Aiaiaiaiai, ora si esplode Ora si esplode malamente, ragazzi Ora si esplode malamente Questa fa male Ora fa male Ora prendiamo le botte, ragazzi Ora prendiamo le botte Sapete perché è difficile? Per questo Abbassare la difesa È cattivo ora Ciao ciao Chat Siamo morti Siamo morti Soprattutto su quel vegeta Mi sa che ci prendiamo 30.000 Come minimo Uuuuh Di 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 Male incoming 17.000 Ok Ok Lo teniamo là sotto, ragazzi Non me ne frega niente Oh my god Oh my god Ragazzi Oh my god Prendiamo botte questo turno Non me fa la special su vegeta Non me fa proprio la special Grazie Ciao maestro È felice di stare guardando il video Settantamila Che male Oh Crit Buono Buono No No Rip Siamo morti la prima volta Yeah Chat Morti la prima volta Ok Chat Facciamo un piccolo cambiamento a questo team Ok Ma piccolo 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 Ok Contiamo con la strada di usare lui Facciamo però una cosa Bra la togliamo No anzi Bra la teniamo Togliamo Togliamo Lui Ci mettiamo Vegeta Super Saiyan 3 Eza Perché semplicemente ci tanca tutto Quindi Ok Lui sinceramente lo togliamo Per metterci lui Per i counter Dai facciamo in questo modo Dai Facciamo in questo modo Ok Bra è rischiosa Però dai Ci fidiamo di bra Andiamo Andiamo ragazzi Seconda run Cambiato un attimo il team Easy No Magetta no 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 Primo turno Eh vabbè Ok ho capito Devo morire Gioco però Che cazzo Dai Così è cattiveria Pura Questa è cattiveria Pura Sappilo Sappilo proprio Cattiveria in questo modo E cattiveria pure In questo modo Dokkan Vabbè E là sotto Non posso mettere Non lo posso mettere Là sotto Bra Là sotto Bra mi esplode Ragazzi Ah Che palle Vediamo un po' Tanto stavo guardando Quante run Mi è arrivato Nanatsu Un attimo solo Non voglio esplodere Però Quando vuole Vabbè Urca che male Chat Urca che male Ho 33 su 60 Ok a posto Possiamo continuare qua Tranquillamente Ok Niente special Ok Niente special Chat Ok 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 Allora Allora Lo teniamoli in mezzo Lui a tankare Easy Il vero problema È che ci Incasina le turnazioni È solo quello Solo quello Ci incasina le turnazioni Quei due colpi Almeno tiriamo la special Se non ci arriva la special In realtà Noi siamo a posto Se non arriva la special Vegeta Super Saiyan 4 Tanca E si vince Tranquillamente Ok Si vince tranquillamente Chat Però Rischioso Rischioso Non the less Ok Lui tankerà A prescindere Anche la special Non sono problemi Ok a posto È un problema Per Vegeta Che prenderà un po' Di danni Dai pugni Comunque Problemino Ma neanche troppo Nitedaro Immagino che fosse Nintendaro Ma te l'hanno rubato Il nome Grazie mille per il follow Ok Ok 6.000 Non troppo La special Poteva fare un po' Manino Manino Ok Allora Vabbè Questo turno In realtà Vabbè Questo turno In realtà Lo possiamo vincere Tranquillamente Ma sinceramente Ma teniamolo primo Dai Teniamolo Teniamolo primo Vediamo cosa può Offrire Vediamo se Vediamo se ci shotta qualcuno Roba del genere Chat O finisco questa E faccio una Multi su Kefla E vediamo se esce Dai Che se esce Tanta roba No Finiamo Rosè Ci portiamo Oh Crit Ci portiamo Ability Kefla Che buono Ora fa male La special su di lui Ora fa molto male Buongiorno Battuto Siamo morti una volta Però Battuto Era un attimo Cambiare il team Era un attimo Cambiare il team Va bene Dai raga Vediamo la multi Della vita Ok Vediamo la multi Della vita La multi Della vita Ragazzi No no Go to the next level Non lo faccio Sorry Non lo faccio Sorry Go to the next level Non lo facciamo Ragazzi L'unica cosa Che odio al momento Sul jump È questa Ragazzi Cioè I nice Sono una rottura Perché sto tenendo le stone E i nice Sono veramente Una rottura Ragazzi Riempiono tutto Va bene Allora Missioni Cosa abbiamo fatto C'è qualche mission No Delle degli Ok Va bene Per favore Dokkan Faccio una multi Per la fortuna Di trovare Kefla Vados Ok Va bene Kefla Vados Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Kefla Vados Kefla Vados Dai Kefla soprattutto Andiamo Tranx e mai Can I Ciao Tranx e mai Ciao Tranx e mai Ciao Tranx e mai Ciao Tranx e mai God pure Vabbè Ok God Vediamo, eh Ok, raga, Kefla, Kefla Kefla, Kefla Kefla, Kefla Kefla, tutti assieme, Kefla Kefla, Kefla Che vuoi, Kid Buo GL Kefla Kefla Vorrei tanto Kefla Voglio Kefla, ok Kefla, dai dammi Kefla Dammi Kefla Kefla, Kefla, Kefla Kefla, Kefla C13 Ability 3 L'ho accetto Per l'amor di Dio, è un bel PG però Cazzarola, noi dammi Kefla gioco Dio Che cazzo vuoi Che cazzo vuoi, C16 C17 Ciao Ti piace uscire a cazzo di cane nelle mie pool, vero? Ti piace uscire a cazzo di cane nelle mie pool Ti piace anche scomparire dal mio cazzo d'account, vero? Addio Stronzo Tronzo Ability 18, Cristo Affanculo, C17 Che si prova e non funziona perché, raga, deve... Deve uscire C17, scusatemi Deve uscire C17, che cazzo bisogna fare? Dio Ma perché? Perché, raga, cioè... Allora, no, lui ci stava Ability alta ci sta Un buon PG, mi piace Lo accetto Non lo accetto sopra Kefla Però vabbè Lui no, raga, c'è proprio Lui è quella proprio Che presa per il culo No, no, basta, basta Non sepulla, non sepulla Mi dispiace Non sepulla Teniamo, perché secondo me arriva L'LR figa prima del Tanabata Quindi teniamo, ragazzi Stiamo tenendo Fingue non arrivano i soldi C'è poco da fa Volevo pullare ma non arrivano i soldi Quindi rip Va bene, ragazzi Ragazzi, tre Android in una multi, cazzo Vabbè, comunque, ragazzi Come stavo dicendo Chiudevamo un attimo dopo la... Dopo lezza Ragazzi, io ricordo Che domani sera Ok? Poi in realtà Lo lascio anche nella live Perché alla fine... Cioè nel video Domani sera, cioè Mercoledì sera Ok? Faccio mille giorni Quindi, ragazzi Vi aspetto tutti in live domani Per i mille giorni miei di Dokkan Yeah! Se fanno i mille giorni, ragazzi Grazie È stato un piacere Grazie mille per essere passati Ci becchiamo domani sera Domani video Tutte le cose Ragazzi Buona snoce Ci becchiamo domani Ciao a tutti и Subtит Smile Ciao a tutti Abonoю Vieni Abonoio Ripo Abonoio Allora